Dalle istituzioni, ecco che cosa sta succedendo qua a Nobiligure. Andiamo un po' a vedere. Ecco, questa mattina, i noviesi camminando, hanno visto questo spettacolo. Che cos'è? Un atto vandalico? Un'intimizzazione? E non è possibile che di notte, in una città piccola come questa, dove praticamente tutti ci conosciamo, possano succedere queste cose. Con quanto a quello che sta succedendo nel mondo, questi sono atti, potremmo dire, insignificanti, però sostanzialmente anche questi colpiscono, perché danno l'idea che nottetempo può succedere di tutto. E questo dispiace soprattutto in piccole comunità come queste, come quella di notte vivere, dove sostanzialmente dovremmo essere tutti amici, conoscenti, vivere tutti insieme. Abbiamo la fortuna di vivere in una piccola città, perché si fanno queste cose. Bene. Grazie. Grazie a tutti.